La Catania-Ragusa va fatta se il governo nazionale vuole che si faccia. Per circa dieci anni è stato portato avanti il progetto pubblico-privato. Ora il ministro dei Cinque Stelle dice che non può essere più pubblico-privato. Ci dica come deve essere. La regione ha messo a disposizione una somma che è di oltre 200 milioni di euro. Ha detto che interverrà per il pagamento dei pedaggi per non farli pesare sugli automobilisti. Però insomma che il ministro Torinelli ci dica quello che vuole fare. Se non dovessero arrivare risposte positive, a maggio sono pronte manifestazioni di protesta eclatanti. Gli amministratori siciliani, con in testa il presidente della regione Nello Musumeci, non vogliono più aspettare. La nuova Catania-Ragusa non deve più essere solo un progetto aleatorio, ma una realtà fondamentale per l'economia della regione, in particolare dell'area orientale della Sicilia. Un collegamento che i siciliani attendono da troppo tempo. Anacronistico, anzi assurdo, che per andare in auto da Catania al capoluogo Ibleo si debbano perdere ore e soprattutto si debba rischiare la vita, in una strada statale troppo spesso cornice di incidenti drammatici. È un'arteria della quale si parla da oltre 30 anni. Beh, io credo che in Sicilia dobbiamo ormai dirci stufi di questo tipo di atteggiamento. Nel nord Italia un'opera si può fare in 3-4 anni, da noi se ne parla soltanto per decenni. È chiaro che la questione della patata bollente sia ormai di respiro nazionale, perché la decisione finale spetta al governo e al Cipe. A pagarne le conseguenze, nel frattempo che una decisione venga presa, sono gli utenti siciliani, anche perché dopo questo ulteriore rinvio all'avvio del cantiere, c'è il rischio concreto che si debba ripartire da zero. Il rischio c'è, motivo per cui noi non abbiamo accolto con soddisfazione questo ulteriore rinvio. Ecco perché noi vogliamo che si faccia chiarezza, noi abbiamo apprezzato l'idea del vicepresidente Armao, condivisa dal presidente Musumeci, di trovare risorse aggiuntive per ridurre il prezzo del pedaggio, che oggettivamente in base al piano iniziale era particolarmente soso, attraverso l'invito al concessionario di trasferire in Sicilia la propria sede legale. Questo determinerà introiti aggiuntivi per la regione, che verranno messi a sistema per ridurre in maniera significativa il pedaggio, ma ribadisco, questo ulteriore rinvio ci preoccupa. L'importanza strategica della Ragusa nel fuor di dubbio. Oltre a collegare dignitosamente le due città, servirà a dare valenza all'aeroporto di Comiso o, solo per fare un esempio, al mercato di Vittoria. Siamo assolutamente su una posizione di contrarietà verso questa decisione, non è ammissibile, siamo stanchi, dobbiamo muoverci per sensibilizzare a tutti i livelli chi ha il potere per agire, appunto per sbloccare la situazione.